dieci anni in due qua veramente leo sono più piccoli di te in questi due papà livello di concentrazione io sto qua perchè mi piace la giù guarda guarda la disperazione sul punto ai 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 testa a testa 24 niente t'ha schiacciato ma dov'è scusa vedi guarda l'esperienza capito e chiudiamo amici miei con le foto di giulia di leo bellissimi davvero ciao